E oggi si va al giardino botanico Il giardino botanico di Gran Canaria si trova a soli 9 km dalla città ed è facilmente raggiungibile anche con inizi pubblici Il giardino si estende per ben 27 ettari ed è il più grande di tutta la Spagna addirittura è stato riconosciuto come uno dei migliori al mondo Questo posto è davvero meraviglioso Al suo interno si trovano più di 500 piante indenti Alcune addirittura a rischio di estinzione Certo che da queste parti c'è proprio un cactus Giusto per capire la dimensione di questi cactus Lei è Franci Ammetto che qui mi sento un pochino piccolina E adesso vado all'interno per farvi vedere la vista da lì È come essere in un bosco E dai cactus si passa direttamente ai pini Mi raccomando scarte comode che qui c'è molto da camminare e da esplorare Su e giù per gradino E da qui finalmente si scende Sono arrivata alla zona costiera Vediamo che piante posso incontrare qua E dal mare si passa alla montagna E adesso chissà anche il dono finirò Ma quanto può essere lungo un pino canario Adesso ve lo mostro Questo è un pino canario fossile Grande, grande E adesso continuiamo l'esplorazione del giardino Ci ho messo un po' Ma forse l'ho esplorato tutto E adesso verso l'uscita Merita sicuramente una visita Ricordatevi che è aperto solo fino alle 14 E l'ingresso è gratuito Grazie a tutti Grazie a tutti